Da venerdì fino a domenica a livello regionale si svolgerà la campagna di screening di massa rivolta agli studenti in vista del rientro in classe, un'imponente macchina organizzativa a quella che i comuni stanno mettendo in campo, su cui il presidente del Lancio Abruzzo d'Alberto chiede il pieno coinvolgimento di tutte le forze sanitarie, come medici di base e pediatri di libera scelta. Il presidente Anci, nonché sindaco di Teramo, si è rivolto in particolare al governatore Marco Marsilio, che ha disposto lo screening nel quale saranno coinvolti la ASL, che curerà l'organizzazione d'iniziativa, ma anche il team operativo del commissario per le vaccinazioni, Paolo Figliuolo, e gli uffici scolastici. Sì, uno screening annunciato dalla regione Abruzzo, inserito all'interno dell'ordinanza, che deve essere organizzato dalle ASL, con la collaborazione del Lancio e quindi dei comuni. Noi la collaborazione la daremo, come sempre, ma è necessario assolutamente che i territori vengano messi in condizione di poter effettuare lo screening in serenità, nel modo migliore. Ecco perché è fondamentale che venga garantito il personale sanitario da mettere a disposizione di questa attività, cercando di evitare di caricare questa attività su chi è sul fronte dal primo giorno, i medici ospedalieri, gli infermieri, tutti coloro che in questo momento sono coinvolti nella campagna vaccinale con grande sforzo. Ecco perché è fondamentale che la regione metta a disposizione personale, penso in particolare alla medicina del territorio, che deve essere chiamata a raccolta con senso di responsabilità per questa attività di screening in vista della riapertura delle scuole, così come è importante il coinvolgimento dell'ufficio scolastico. Noi sindaci, da nostra parte, sotto il profilo logistico, la faremo. È chiaro che si tratta di un'attività proposta dalla regione Abruzzo sulla base di indicazioni del commissario straordinario Figliuolo, per fare un intervento che riguarda circa 140.000 dei nostri ragazzi ci sia una risposta importante, non si può improvvisare l'organizzazione. Ovviamente l'appello va fatto anche agli studenti affinché partecipano a questa campagna. Certo, l'appello è fondamentale, la chiamata a raccolta di tutti gli studenti per questo ennesimo atto importante di responsabilità in vista della riapertura delle scuole, che al momento è fissata per il 10 gennaio, affinché possano ripartire e soprattutto proseguire in sicurezza in un momento, che è quello più difficile tra quelli che stiamo vivendo. Quindi appello agli studenti, appello alla regione Abruzzo, al Presidente affinché garantisca, ripeto, il personale sanitario, anche eventualmente con un'ordinanza che ordini la partecipazione a questo tipo di screening.